vediamo un po come funziona ok sono nella mia fattoria perfetto ah lo che vuole unirsi accetta ah devi accettarmi tu bastardo eh cioè sono io l'admin è la mia fattoria mo devo vedere di darti tutto permesso eccetera perchè se no non puoi usare i miei cosi presumo che cazzo sei ah eccoti ciao fiocchio i cecchi di merda vecchio 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 sai cosa serve questo qui che cazzo non so sarà per arare per far duchi no non è per arare serve per aggruppare la paglia o l'erba ah ok ho capito eh si si perchè serve la calceviva serve la calceviva infatti poi devo devo comprare tutto adesso per ora non ho soldi eh vedi sto facendo questo io faccio vedere perchè non mi fa entrare ah premi premi start option vai uniscite la fattoria di manzoniano ok perfetto ecco ecco vedi che adesso vede allora vedi l'ho raggruppato in cazzo di strisce di merda come se fosse una striscia di coca ora abbasso sta roba qua l'accendo ora ghino questa qua è si è riempita allora fammi una cortesia adesso non so se puoi usare i mezzi ok eh vai alla come che si chiama vai al fienile vendilo per favore questo operaglio ha fatto un casino qua comunque ti dicevo prima che ho fatto una puttanata immensa di grigio con con il mio raccolto prima perchè praticamente eh sono andato sul raccolto dovevo eh usare l'erbicida per levare le erbacce di merda che si erano formati eh sono andato con il trattore ma con le gomme grosse e mi ha schiacciato mi ha rovinato una parte di di raccolto non rivini il campo degli altri eh tu quelli hai il 19 e il 20 e basta sì 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 per adesso sì sono all'inizio ho iniziato stamattina alle 8 ok vediamo un po' di assumi operaglio ora che cosa che cosa possiamo fare assieme io e te vecchietto eh la calcia è viva è l'unica è l'unica quindi adesso sai cosa faccio ah ecco però tu stai facendo quello perfetto bravo sì vado avanti bravo bravo vecchietto bravo ok fai quello fai quello allora io vado a pensare alla calcia è viva prendo in affitto quella roba lì che tu mi hai dato un ottimo consiglio in effetti che non ci ho pensato ad affittarlo così comincio a dare la calcia viva io non mi devo ancora guardare un attimo non c'è problema vecchietto fai quello che devi fare eh sì se è già abbassato è posto di 70 centri ah no è questo qui allora per spargere la calciviva serve il fertilizzante? domanda perché la calcivia se non sbaglio è questa qui per quanto ricordo al tutorial serviva solo la calciviva e basta che ci sono chiede la danna in pellet e e in sacchi di sì quello che è e poi cosa di più la tutta la scruzza per quanto ricordo del cuore che è tutta una roba bianca 39.000 costa io ce n'ho uno però è pieno di fertilizzante me ne servirebbe un altro però mica 39.000 euro però sì ma non leggerlo piuttosto sì infatti lo ne leggiamo cioè finchè c'è questi prezzi qua e non più li compro ma per la foglia che è rimasta ah non importa non importa ghino se vuoi provaci però non starà a sclerare nel caso la porto via e vaffanculo cosa la porto via? eh faccio gli butto la calciviva e con cimo e la leva da solo perché non sei obbligato capito a farlo io lo faccio perché così quella roba lì la vendo e recupero un po' di soldini perché in questo momento sono un po' in difficoltà allora adesso sto passando solo dei ciuffi ho visto che c'erano delle zone ancora ah ok va bene se te li recupera ok però ci devi sclerare no i ciuffi no è solo no vabbè ma tanto la sto tenendo abbassata quindi ok perfetto poi lei per la porto via ok se mi muove il conto che ci gioca no 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 lui si è indebitato come una merda però io non voglio fare la stessa cosa mi sono indebitato di 10.000 di 10.000 euro ma l'ho già pagati tutti quanti perché mi sono dovuto comprare la quello che leva l'erba cioè non so come cazzo si chiamano non mi ricordo aspetta un attimo ma io che cos'è che ho comprato no ho sbagliato non so tu dovevi no ah no ok si 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 no no va penso di si no coglione un grandissimo coglione ho comprato ah no non l'ho comprato è quello è quello di prima calceviva perfetto questo devo comprare uno male che non costa tantissimo prendiamone due basta così ok no perché essendo che ho comprato si 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 va bene va bene allora vediamo un po' di devi prima riempire l'attrezzo se mi dai un attimo lo riempio ah cazzo posso dire no no qua sono verdi tu stai giocando nella mappa americana nella mappa americana sono rossi qua trida verdi infatti anch'io sto giocando nella mappa americana però preferisco più l'europea è più bella da vedersi oh oh grazie vecchietto grande vecchietto cazzo devo comprare un altro sacco anzi basta così per ora basta così a massimo ritorno comprare un altro per sicurezza mi hai fatto andare indietro poi allora calceviva ne compro ancora due dai eh si per forza tu non sai che che monologhi che mi faccio da solo vecchio lo immagini lo so che lo immagini hai tolto il traffico si l'ho levato perchè c'ho voglia di bestermiare mi diceva ma che non trovo nessuna macchina si si l'ho levato fermati 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 frena sei lì eh fermo fare una cosa prima che mi dimentico come cammina che adesso vuoi sto lavando il coso ti fa cagare meglio che non ti veda come ti vedo io ok guarda fammi vedere com'è dove la pompa qua ecco cos'è l3 ok adesso faccio vedere rotondo rotondo per stare l'acqua sembra uno schizofrenico questo sei tu si è un po' scomodo il rotondo andare su e giù è scomodissimo così sei così eri tu ah eh vabbè Ago stai tranquillo sai perchè io ho messo ruote ruote piccole e ruote piccole anche all'altro quindi anche se vai nel mio campo quello lì non gli fai niente quindi stai tranquillo allora aspetta un secondo prima di iniziare aspetta devo vedere una cosa ma tanto devo spiegarla erbaccia calceviva richiesta allora erbacce non ce ne sono fertilizzato è poco quindi prima calceviva ok si però Ago però inizia da questo angolo eh si ma c'è il tuo trattore ok adesso mi sposto controllavo soltanto il terreno come era io vado vado a portare le patate dall'altra parte si ho fatto tanto è largo questa cosa è tantissimo grande quel terreno è enorme infatti cos'è no no quello che spara ah si si è bello grande l'ho preso apposta così facciamo facciamo prima Ago se no 30 anni io pensavo che lo sparava lateralmente per la sua lunghezza ha il butto ah non ho visto lo sparo ha ventaglio ha ventaglio ah ok se si fa scuro vuol dire che sta lo sta facendo se il terreno è scuro si fa scuro vuol dire che sta facendo bene il lavoro scuro si deve essere si scuro si bianco bianco hai ragione bianco deve essere tutto bianco è vero che poi non è che mi paga neanche tanto mi da 15.000 eh minchia mi dovrebbe dare di più per la rottura di coglione che mi sto facendo poi ho visto come si lavora il cotone Ago madonna ma che bello che è è una cosa fantastica cazzo lavorare il cotone è bellissimo ok qui dove devo andare ok vorrò ripassarlo perchè mi facciamo molto stai tranquillo stai tranquillo vecchietto ci mancherebbe altro hai iniziato anche tu da poco eh anzi io che ho fatto la puttanata che mi sono ah bravo hai visto che ho fatto bene a comprare quello a nastro no è finito c'è ancora il 30% però mi manca ancora diciamo faccio ancora due passaggi eh si controlla bene il terreno com'è bravo bravo no due passaggi per finirlo però dopo devo ripassare le prime anche su un partito ok ok poi dopo vecchietto quando è finito butta il fertilizzante però non sai dove cazzo ti devo dire bene dov'è appena finisci che fai tutto quanto con calma ti dico dov'è il fertilizzante fai vedere un po' che come come che stai facendo arrivo ah si c'è un triangolino qua un coso lì ma che se ne frega nel senso bravo perché lì c'è il partito perché non non avevo la misura va bene va bene bravo bravo vecchietto si però comunque la potremmo fare meglio eh questa mappa di merda perché minchia gira a destra e gira a sinistra gira a sinistra gira a sinistra gira a destra io mi confondo già sono già sono dislessico di mio quello che quello che manca a destra lo manca a sinistra lo manca a sinistra lo manca a sinistra ah vai a vai al negozio vai al negozio l'ho comprata la calciago dovrebbe essere avanzata ancora un po' oh aspetta no mi sembra di no no non è avanzata eh la compro ma è tanta mancano due no una striscia c'è una striscia un quarto e due pezzettini vai ago te l'ho comprato nel negozio piuttosto con meglio comprarle si 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 eh poi ti do un altro compito poi ti do un altro compito adesso fai così vai al negozio te l'ho già comprata una vai a recuperare eh eh apri la mappa tanto è vicino non è tanto lontano è vicino ma si può andare a pesca? ah lo sai che lo sai che il lago serve? serve il lago serve per recuperare esatto che c'hai quel cassone tipo a imbuto non so che cazzo si chiama non era visto no non imbuto sbagliato tipo tipo quello delle benzine è presente quel cassone con tipo benzina ecco lo devi riempire eh ti serve per gli animali per i cavalli per i cavalli per i maiali penso per le bacche mi piace un po' il cassone allora si eh no 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 eh sto arrivando io sto arrivando io eh la fattoria quella la non ti faccio vedere aspetta vieni albino aspetta arrivo entra in quel buco lì che vedi in quella casa lì dis? la qua dentro qua dentro trovi la il gancio e la il pallet e il prendi pallet il cazzo si chiama ma entri con si si entra entra di pace vecchio di muso entra di muso ah per solo dovevo prenderle no 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 si prende da davanti si attacca da davanti no no come si cambiava la visuale? con L con R3 eeeh eeeh che bello hai da ridere è perché son felice sto di vecchio sei felice tu non sai batti le mie mani No ho sbagliato Ho fatto la puttala Fa Fa un culo Più che altro Lino se vuoi Aspetta Non leggi Un cazzo di cassone Così li metti sopra Ti non leggi un carrello va Così se no devi farti avanti e indietro ogni volta Sai che rottura di coglioni Ok Noleggia No no perché il carrello Ah perché per metterli sopra Si metti la sopra e poi Ti trasfago ricordati Li metti sopra con quello E poi scendi dal mezzo E metti il Come si chiamano Metti Devi premere un tasso per mettere come cazzo Si chiama le fasce per tenerlo fissi Perché sta saltando Cago che stai combinando Non riesco a capire Piano piano Madonna Ma non riesco a capire Mi ascolta Ma perché Cosa Il palletto non va fin Non ci arriva fin in fondo Si invece Non sentire Devi tenerlo forse un pochino più basso vecchio Cazzo Io sono riuscito a portare quei pallet dal negozio E quindi se ce l'ho fatta io vecchio Ce la puoi fare anche tu Lo so che è un po' uno sclero Non avendo l'ho mai usato Lo so Vabbè faccio io tranquillo vecchietto Eccomi Eccoti qua vecchietto Ah sono sceso Hai visto Bravo vecchietto L'ho fatto io così Portali indietro E scendeli tu Scusami ora vengo a lavorare Bravo Bravo Anche perché mi stai costando vecchio Più lo tieni fermo a quel cosa E poi mi chiedono soldi Allora Ok Eh ma le corna Devi metterle giù No Troppo Ok No Era il primo va bene Andava bene prima Ancora 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 Perfetto Vai piano piano Aspetta però Aspetta Devi Devi sbloccare qua Devi slacciare Aspetta che devo slacciare qui Che da me lo fa a slacciare Slacciato E slacciato Perfetto Ok Allora le cornette Un pochino più giù Boh Prova adesso Piano piano Con la cosa Con il trattore Vai 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 Ok Adesso le corna Tirano un pochino su No Su Su Perché Perché sono storti i comandi Perché sono invertiti Ok Ma no Pintanto prima Sulla strada Dove te li metti Eh laggiù Laggiù Perché tu laggiù È un po' strano Guarda Mettili Mettili qua Guarda Qua Qua Lo stronzo Si è fermato No Sta ancora lavorando Lo schiavo No Lug E adesso No Che è successo laggiù No Ah questo è combinato Io devo tirare fuori le patate qua E se no finisco più Tutta eh Ma che cazzo è combinato Eh ma non ho Non ho di mistichezza Con questi comandi Ancora Cosa sta facendo No Pazzo di vecchio No perché ce l'ha ancora su No No Potrebbe farcelo Ma non si impegna Ma un pochino si stacca Aspetta che mo arrivo Per fare le calzoni vecchie Di un bambito Perché non si stacca Eh mo arrivo Vuoi vedere Non so Saltella Va bene ago L'hai poggiato bene No ma No ma non si Non si staccava Ah è perché devi poggiare Le corna Le devi portare giù Se lo coccano Dai andiamo Vieni a caricare l'altro Così do via sto cazzo di cosa Se no Mi sta Mi sta distanguando Il noleggio Eh per quello che ti ho detto Potevi farlo tu no Eh dai dai Eh no io devo fare altro Devo fertilizzare Devo portare le patate Su No Troppo troppo su Troppo Sta calmo Sta calmo Che ho la sensibilità Altissima Vai No No un pochino su Le corna Ok ok Aspetta Abbassa un po' le corna Le forche Come cazzo si chiamano Abbassa un po' le forche No no Non abbassare il braccio Le forche Vecchio Ok vai Come ricordo E' che l'hai preso La porco Aspetta Devo fare dimestichetta Aspetta Aspetta Ok Si porto via il Eh magari l'hai fatto Più di meglio Ma no Partico un po' Beh Ah 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 Travesti a vederlo Ah 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 no lo vedo Ah 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 Tira un pochino su Le corne Solo col cazzo Che cammini No il braccio Ok No no Non ci credo La fisica Ho piccato addosso Ah 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 Il mio No Finchè sei un prestigiatore Sei oh Si però adesso il bello Che metterlo giù Sarà No basta che Basta che Soltanto le cornette Le butti tutte giù Abbassa di tantissimo Le cornette No solo le cornette Non le braccio Ah ok ok Devo ancora No non ci credo Fammi fare a me va Va bene No ma Vabbè lascia a pedo Non importa Va bene così Va bene lo stesso Penso che funzioni lo stesso Io mi abba No 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 Grazie a tutti